Si intensificheranno i controlli da parte della Polizia Locale di Sassari durante le festività pasquali. A partire da giovedì sono previsti controlli nelle vie del centro urbano sassarese sulle strade di collegamento tra città e aree costiere. Da sabato invece sarà utilizzato il telelaser per monitorare i limiti di velocità nelle strade maggiormente esposte a rischi di incidentalità, come via Predanieda, via Pirandello, via Budapest, piazza Santa Maria, via Carlo Felice, la strada comunale Sassari-Plattamona. I controlli prevedono anche l'accertamento dello stato psicofisico del conducente. Nel 2017 sono stati 57 reati legati all'assunzione di alcol e droghe registrati dal Comando della Polizia Locale di Sassari, il 20% in più rispetto al 2016. Attenzione anche all'uso dei cellulari durante la guida.